Non intendo dar la vinta a questi balordi, nella mia attività quotidiana combatto abusi edilizi, denuncio dipendenti fannulloni. Non demorde l'avvocato 46enne Amedeo Colacino, primo cittadino di Motta Santa Lucia, vittima ieri notte di un terzo atto intimidatorio, quando i gnoti hanno incendiato la sua auto o una Toyota parcheggiata sotto casa. E' scosso, ma non intende lasciare il campo, convinto che nella vicenda l'andrangheta non c'entri nulla. La mia famiglia è sotto shock, sono sposato e una figlia tredicenne, ma non intendo darla vinta, ribadisce il sindaco, a questi delinquenti, che non hanno nulla a che fare con la criminalità organizzata. Colacino ha fornito agli investigatori indicazioni precise alle forze dell'ordine sui possibili responsabili. E i riscontri potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che il primo cittadino ha fatto installare a protezione della sua casa. Dalle immagini, da quanto è trapelato, si vede una persona col viso parzialmente coperto da una felpa.